Bene, grazie. Voglio ringraziare moltissimo Matteo per questa straordinaria occasione. Non lo conosco da ieri, non lo conosco tanto per chiarire subito dopo i grandi risultati elettorali delle scorse regionali, ma lo conosco dalle regionali della Lombardia, quindi nel momento in cui lui non era neanche ancora segretario della Lega. Insieme abbiamo collaborato, abbiamo sostenuto il candidato allora Roberto Maroni, lo abbiamo sostenuto anche alle elezioni europee, vista la nostra posizione contraria a questa moneta unica che è l'euro e che sta affossando il nostro Paese. E lo ringrazio perché quando l'ho incontrato e gli ho parlato di quella che poteva essere considerata dal leader di un grande partito un'eresia da poter dire in televisione, quella della flag tax, lui intuitivamente l'ha subito invece accolta, l'ha sposata con coraggio, con il coraggio che si addice a un leader che si deve preparare a dare delle risposte concrete a questo Paese. Naturalmente ringrazio di tutto cuore anche il professor Rabuschka. Il professor Rabuschka che sta là, lui vive nella Silicon Valley, là dove ogni minuto cambia il mondo, e che ha ricevuto un mio progetto via mail, come si fa così negli Stati Uniti, si iscrive anche a un grande personaggio, il grande personaggio magari ti risponde. Allora dopo 15 giorni che ha ricevuto il mio progetto mi fa molto bello. Bravi, complimenti, mi piace molto e se avete bisogno di me ci sono. Tra l'altro sono anche andato a vedere su internet, ho visto che siete un partito di giovani e quindi ancora di più vi aiuto volentieri. E questo mi ha molto colpito. Sono rimasto davvero straordinariamente colpito e mi ha detto se avete bisogno io ci sono. Abbiamo lavorato un anno insieme per dare forma a un progetto che fosse sostenibile per l'Italia, perché la FLECTAC, sapete, è applicata in 38 Paesi del mondo. Dopo un anno oggi siamo in grado di avere un progetto fattibile e concreto che sia in grado di dare delle risposte al nostro Paese. Siamo qui per parlare di una rivoluzione fiscale, ma prima ancora di parlare di numeri dobbiamo parlare di una rivoluzione culturale, perché introdurre il concetto di un'aliquota unica significa bypassare tutti i retaggi ideologici che hanno condizionato il nostro Paese negli ultimi 70 anni. Abbiamo una Costituzione che all'articolo 1 dice che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ma non chiarisce chi sono i lavoratori. Così io mi trovo in un dibattito in televisione con qualcuno della sinistra che mi dice che i commercianti non sono lavoratori, che gli artigiani non sono lavoratori, che gli imprenditori non sono lavoratori. Perché quando non si fa chiarezza a volte si dà spazio a tanti equivoci, a tante barricate, all'uno contro l'altro. Oggi è il momento in cui ci ritroviamo però tutti sulla stessa barca, mi sembra. L'articolo 53 della nostra Costituzione stabilisce che il nostro sistema tributario è informato a criteri di progressività. Bisognerebbe capire che cosa significa, perché se il sistema tributario è informato a criteri di progressività, non vuol dire che solo l'imposta diretta è informata a criteri di progressività. Vorrebbe dire che io quando vado dal benzinaio, secondo di quanto guadagno, dovrei pagare di conseguenza un libro di benzina. Allora vedete come le cose poi non sono così come appaiono. Noi siamo a parlare di una rivoluzione fiscale perché questo sistema progressivo a cinque aliquote non funziona. Se no non ne parleremmo. Noi siamo a parlare di una rivoluzione fiscale perché questo sistema è incomprensibile all'80% e più della cittadinanza. Nessuno sa come funziona. Aliquote, scaglioni, oneri deducibili, trattenute, alla fonte, sostituto di imposta e chi più ne ha più ne metta. Non è chiaro a nessuno quanto lo Stato trattenga, ma di sicuro è chiaro per tutti che lo Stato e il fisco ha sempre ragione con noi. E noi abbiamo sempre torto e siamo sempre in difetto in qualunque circostanza. Allora questa cosa deve finire. Noi abbiamo bisogno di avere un fisco che ci possa regalare chiarezza, limpidezza e soprattutto comprensione. Tutti dobbiamo sapere quanto diamo allo Stato. Noi viviamo in uno Stato dove noi dichiariamo quanto guadagniamo allo Stato. Lo Stato si alimenta della nostra energia, del nostro lavoro. E io invece penso che al contrario dovrebbe essere lo Stato a dichiarare lui che cosa fa con il nostro lavoro, con i nostri soldi, con i nostri sacrifici. Questo sistema fiscale e questa aggressione, questa arroganza che soprattutto l'Agenzia delle Entrate e i suoi gregari hanno nei confronti di chi lavora in questo Paese, soltanto nel 2013, ha portato a 149 suicidi per motivi economici. La stampa non ne parla, ma le cose vengono. Voi sapete l'onta morale, il condizionamento psicologico che questa situazione crea in tantissime persone. Guardate che, ed è sotto gli occhi di tutti, le nostre città stanno diventando dei cimiteri a cielo aperto, le serrande dei negozi sono sempre più chiuse e intorno abbiamo la desolazione. Quando a 50 anni tu ti rigiù la serranda e non sai fare altro, dove vai a lavorare? E quando ti trovi tutte le cartelle d'equitaia da pagare perché non hai potuto provvedere al pagamento delle imposte? Ti bussa qualcuno e ti dice, non me ne frega niente, lei deve pagare. E se i soldi non ce l'hai, che cosa fai? Ecco, di questo che probabilmente il governo si dovrebbe occupare. Invece, mentre noi siamo qua a parlare di come risolvere questa cosa, il governo mi sembra che stia progettando un nuovo aumento dell'IVA che sembra che la porti al 25%, ma perché è normale, chiaramente. Perché in questa situazione di recessione e di stagnazione, per avere più soldi e più tasse, tu non puoi fare altro che aumentare la leva fiscale. Non hai altra scelta. Noi invece proponiamo l'esatto contrario. Ecco perché la FLECTAX. La FLECTAX, o se preferite, aliquota unica, intanto agevolerebbe la comprensione, come ho detto, visto che noi abbiamo un Paese che ha 138.101 tra leggi, normative, direttive, delibere, di tutti i generi, di tutti i tipi, a ogni ordine e grado del livello della burocrazia e dell'amministrazione dello Stato. Abbiamo soltanto 1800 leggi fiscali e naturalmente viviamo in un Paese dove si dice che la legge non ammette ignoranza. Quindi a questo punto mi sembra di capire che siamo tutti in libertà provvisoria. Non è più tempo delle mediazioni, non è più tempo delle cose dette a mezza voce, non è più tempo per gli inciuci, è tempo del coraggio. Ecco perché ringrazio Matteo per averlo avuto, questo coraggio. È tempo di invertire la tendenza e l'aliquota unica rappresenta oggi una grande occasione per l'Italia di far ripartire la nostra economia, la nostra industria, di far emergere quei 400 e passa miliardi di euro di sommerso che sono un terzo del nostro PIL nazionale e che grazie all'introduzione di un'aliquota unica, come ci spiegherà dopo il professor Rabuska, emergeranno già il 50% fin dal primo anno. Stiamo parlando di un sistema che è applicato in 38 paesi al mondo, non stiamo parlando di un sistema che nessuno ha mai sperimentato, stiamo parlando di un sistema che funziona. Il problema è culturale, è di pensiero, è ideologico, non è un problema di numeri. Io ho sentito qualcuno che ha fatto un po' di minestrone con i dati, un minestrone anche un po' acido perché non conosceva quali erano effettivamente i numeri e non conosceva tra l'altro la nostra proposta di Flectax. Qualcuno che probabilmente ha difficoltà con il cambiamento e che pensa che il cambiamento riguardi sempre gli altri. C'è un po' questo atteggiamento, no? Per cui io già quando avevo dieci anni, mia nonna aveva il televisore in bianco e nero, guardavo e sentivo parlare la politica che ci voleva un cambiamento. Poi dopo trent'anni sento dire la stessa cosa, ma naturalmente questo cambiamento riguarda sempre qualcun altro. Allora ho fatto un esperimento un po' di tempo fa, sono andato in Corso Buenos Aires a Milano e ho interrogato quelli che passavano e ho chiesto, scusa tu sei gli altri? E lui dice, no, io sono io. Insomma ho fatto diverse domande ma nessuno era gli altri, tutti erano io. Allora dove sono questi altri? Ma sono in un posto inesistente in realtà, perché purtroppo quello che c'è fuori è lo specchio di quello che siamo. Siamo un paese in cui alle sei del mattino comincia il primo ad andare al bar e dire questi italiani non cambieranno mai. Poi arriva un altro e dice questi italiani non cambieranno mai. Poi arriva un altro e dice ah questo popolo non cambierà mai. Ah gli italiani non cambieranno mai. A mezzogiorno sono passati cento italiani che hanno detto che non cambieranno mai. Allora mi chiedo da dove debba partire questo cambiamento se non da un pensiero, se non da un fatto culturale, se non da il coraggio davvero di cambiare un po' anche se stessi, perché ce n'è bisogno, se no non ci troveremmo in Parlamento un tizio che dice fatti i fatti tuoi, pensa alla pensione tua, che tanto qua sono tutti malviventi. Qualcuno facendoci i conti in tasca ha detto che il nostro sistema non funziona perché mancano cento miliardi. Non so come abbiano fatto i conti in realtà, perché questi cento miliardi dove l'hanno preso non lo so, anche perché il gettito totale delle imposte dirette in Italia è centosessanta miliardi. Non è che se abbassiamo dal 15 al 23 possono mancare cento miliardi. Poi hanno avuto anche il coraggio di dire che sono sessanta milioni le persone che dovranno avere una deduzione di cinquemila, che non so chi gliel'ha detto visto che noi la deduzione l'abbiamo a tremila, quindi probabilmente hanno messo lì dei numeri un po' a caso. In ogni caso, non tenendo conto del fatto che le deduzioni già esistono, cioè sulla base imponibile degli 805 miliardi di euro su cui si calcola l'imposta. Già esistono le deduzioni, non è che le introduciamo noi così to court. Noi abbiamo pensato alle deduzioni, soprattutto in particolare, poi ve lo spiegherà meglio anche Borghi e ve lo spiegherà anche Rabusca, per le famiglie. Abbiamo pensato al reddito familiare, abbiamo pensato di agevolare le persone e le famiglie che hanno i figli. Abbiamo introdotto un meccanismo che cerca di venire incontro anche ai dettami dell'articolo 53 della Costituzione, perché noi questa cosa la vogliamo fare subito. Non è che ne parliamo e basta, non è uno slogan pre-elettorale, anche se le elezioni non si sa se ci saranno o meno. Noi questa riforma la vogliamo fare subito. Non mancano i soldi. Si tratta, se vogliamo vederlo, in termini nominali di una variazione di 35 miliardi di euro. Allora, se è vero che abbiamo 400 miliardi di sommerso, ed è vero, come ci spiegherà il professor Rabusca, che già dal primo anno potrà emergere già il 50% di quei 200 miliardi, tassati al 15% sono 30 miliardi di euro. Vogliamo pensare anche di cosa succederà sulle imposte indirette, perché nessuno ne parla. Se la ricchezza torna a circolare invece di essere drenata tutta dallo stato che è un'idrovora che la succhia, che cosa succede? Voi pensate, anche voi stessi, il vostro corpo, no? Se voi mettete un laccio al collo, è chiaro che il sangue fluirà più rapidamente verso il cervello, ma le altre parti del corpo che fine fanno? Vanno in cancrena. Non è quello che sta succedendo? Non è quello che vediamo e a cui assistiamo tutti i giorni? Quest'economia, il nostro paese, sta andando lentamente in cancrena, perché i terminali non sono alimentati, perché l'ossigeno non arriva alle cellule. E quando l'ossigeno non alimenta le cellule, il corpo muore. E' questo che probabilmente qualcuno si augura per il nostro paese. Allora, se i conti ci sono e c'è l'emersione di quello che è il 50% del sommerso, dobbiamo pensare che tutte queste risorse andranno in giro e si trasformeranno in cose, in consumi. Se si trasformano in consumi, che cosa vuol dire? Che lo Stato, attraverso le imposte indirette, recupera il 22% su questi 40 miliardi. E allora abbiamo altri quasi 10 miliardi di entrate. Non solo, ma i consumi che cosa creano? Creano nuova produzione. Perché se io compro di più, l'azienda produce di più. Se l'azienda produce di più, che cosa fa? Assume di più. Se assume di più, che cosa succede? Aumenta la base imponibile, perché io ho più occupazione, più disponibilità economica e più risorse su cui fare una tassazione unica per tutti al 15%. E' veramente facile. Matteo diceva, se la capisco io, la capiscono tutti. Ma lui l'aveva già capita e mi auguro che veramente possa arrivare a tutti con grande semplicità. Un'aliquota unica per tutti al 15%, ciascuno potrebbe farsi la dichiarazione a casa. Togliamo i tomi, togliamo tutte quelle che sono le varie normative, le varie detrazioni, deduzioni, aliquete, tutto il resto. Il motto di questa iniziativa è tutti pagano, ma tutti pagano meno. Paghiamo tutti, paghiamo meno. Questo è il motto della nostra iniziativa. Poi, naturalmente, ci sono anche i più diffidenti. Ci sono quelli che dicono che tanto gli italiani non cambieranno mai, no? E che diranno, figurati se l'emerso torna, figurati se questo 50%, poi alla fine possiamo tassarlo, eccetera. Abbiamo anche un piano B, volendo. Noi abbiamo presentato, grazie al gruppo della Lega Nord al Senato, un emendamento. Ringrazio la senatrice Comaroli e Tosatto, che hanno firmato questo emendamento, la legge di stabilità, che naturalmente poi in aula, ovviamente questo governo boccerà, perché voi sapete che da 12 anni l'Agenzia delle Entrate ha 600 miliardi di crediti che deve esigere, che non può naturalmente esigere, perché oltre l'80% di questi sono completamente inesigibili. Però fa comodo scriverli a bilancio da qualche parte. Voi sapete che le nostre agenzie tributarie ci costano 6 miliardi l'anno. 6 miliardi l'anno. Allora, di questi 600 miliardi, circa il 50% sono debiti di piccoli contribuenti, persone che non hanno grandi capitali, non sono evasori, è gente che ha dichiarato che non può pagare. Allora noi abbiamo presentato un emendamento, abbiamo detto, scusate, visto che questi soldi non li prenderemo mai, togliamo questo peso da addosso a questa gente, restituiamoli un po' di dignità, proponiamo un saldo estralcio dal 10 al 25%, a seconda delle condizioni in cui queste persone si trovano, se hanno perso la casa, se hanno perso il lavoro, se si trovano in difficoltà, eccetera, e aiutiamoli a tornare a vivere, perché è questo che la politica dovrebbe fare, invece di continuare a parlare solo di se stessa e basta. Allora, questo è il piano B. Il piano B vale 30 miliardi. Allora, vedete che alla fine è solo una questione di volontà politica, non è una questione di numeri, è una questione di coraggio, e c'è chi il coraggio lo ha dimostrato, come Matteo, questa è una battaglia, lui lo sa, perché abbiamo coinvolto su questo anche Berlusconi, anche se sul discorso dei numeri, e poi il professore più o meno credo che l'abbia convinto sul 15%, ma il tema è comune a tutto il centro-destra, perché noi dobbiamo poter offrire un'alternativa, noi ci stiamo occupando di costruire un'alternativa a questo governo, al governo Renzi, e la FLECTAX credo che contribuirà ad unire le posizioni di ciascuno. lavoriamo al fianco di Matteo, che oggi all'opposizione sposa la FLECTAX al 15%, e domani da capo del governo ne farà la nuova realtà fiscale che tutti noi meritiamo, perché vogliamo vivere e non continuare a sopravvivere. Grazie a tutti.